Mondadori presenta Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano? di Francesco Costa. Ammira. Sarà dolce il futuro. L'America è sempre stata la disperazione di ogni ideologo. Il nostro destino come nazione è sempre stato non avere alcuna ideologia, ma esserlo. Richard Hofstadter. 27 febbraio 1955. Introduzione. Gli americani si vestono come gli pare. Se accantonassimo per un momento la nostra passione nazionale per la moda e lo stile, peraltro forse più sbandierata che praticata, potremmo considerarla una qualità ammirevole, tra molte altre loro caratteristiche che invece non capiamo, oppure che capiamo, e ci fanno inorridire. I giornali scandalistici ci hanno abituati a servizi fotografici che mostrano le star di Hollywood in condizioni pietose, mentre scendono dalla macchina o spingono il carrello della spesa. Contano sulla nostra reazione scandalizzata. Ma hai visto come si è ridotto? Era così bella in quel film. Non l'avevo riconosciuto. Guarda che capelli! Siamo fuori strada. Quella storia che ci raccontiamo spesso sull'importanza di essere noi stessi, di non sentirci obbligati ad adeguarci a un modello stabilito da qualcun altro, di antiporre il nostro benessere al giudizio altrui. Ecco, da quelle parti la praticano per davvero. Negli Stati Uniti non c'è niente di particolarmente bizzarro in una donna in coda da Starbucks con le pantofole o in un uomo che gira per i negozi indossando uno di quei vecchi e comodissimi maglioni sdruciti da domenica pomeriggio sul divano. Se gli gira, gli americani si presentano a cena dagli amici con l'infradito, pur trovandosi magari a qualche migliaio di chilometri dalla spiaggia. Il sabato si mettono in macchina e vanno a fare la spesa in pigiama. Nelle occasioni eleganti indossano abiti improbabili e sempre della taglia sbagliata. E quello che vale per l'abbigliamento vale per quasi tutto il resto. Who cares? Cosa importa? Si chiedono. Sono americani. Il mondo non li spaventa. O meglio, il mondo li spaventa. Certo che li spaventa. Lo vediamo bene anche noi, guardandoli da fuori. Ma loro tirano dritto, come se non se ne rendessero conto. Abbiamo una certa familiarità con il nazionalismo statunitense, la mano sul cuore durante l'inno nazionale, le bandiere in giardino, la scritta In God We Trust, sui dollari, e il giuramento di fedeltà alla patria recitato a scuola ogni mattina. Tutto ci sembra sopra le righe. La loro aggressività infantile ci inquieta. Il loro atteggiamento spaccone ci respinge. Ci capita persino di provare uno strano imbarazzo quando li osserviamo descriversi e sentirsi speciali. Il popolo eletto, la guida del mondo libero, un faro di speranza, una città splendente sulla collina. Tutte espressioni che gli americani usano di frequente e senza ironia per parlare della loro nazione. Ci sembra mitomania oppure propaganda, ma quello di cui non siamo consapevoli è che i primi bersagli di questa propaganda sono gli americani stessi. E quindi che il principale obiettivo e il risultato di questi sforzi non sia convincere noi, il mondo fuori, della loro eccezionalità, bensì convincere se stessi. E sapete che c'è? Vero falso che sia funziona. Ci credono, quindi ogni tanto ci riescono. Lo stiamo vedendo ancora una volta in questi anni. A fronte della nota narrazione sull'oro declino, infatti, negli ultimi anni gli Stati Uniti hanno allargato la forza lavoro come non era mai accaduto prima. E il tasso di disoccupazione è sceso ai livelli più bassi degli ultimi 50 anni. La loro economia è cresciuta con tassi vicini al 5% l'anno, abbattendo l'inflazione molto prima del resto dell'Occidente e facendo crescere gli stipendi più dell'inflazione. E lo hanno fatto mentre tagliavano le emissioni inquinanti. Hanno innescato una nuova rinascita industriale. Hanno deciso il più grande investimento pubblico di sempre contro il cambiamento climatico. Hanno abbracciato le energie rinnovabili con una rapidità che ha stupito gli esperti, mentre contemporaneamente diventavano esportatori netti di petrolio. Stanno cambiando, con grande rapidità, sotto i nostri occhi. Le loro alleanze politiche e militari sono più salde che in qualsiasi altro momento degli ultimi 20 anni, mentre la NATO, data a lungo per moribonda, è stata resuscitata e allargata. Intanto la rivale del secolo, la Cina, affronta la crisi economica più grave degli ultimi decenni e rinuncia al sogno del tanto atteso sorpasso, ripiegandosi su se stessa fra grandi incertezze e timori. Quante cose sono cambiate in pochi anni. Nonostante le battute d'arresto e gli eventi traumatici non siano mancati, e tanti dei problemi del paese siano ancora lontani dall'essere risolti, ne parleremo, questa accelerazione sorprendente si spiega con l'esistenza di un paese che vediamo meno, ma che c'è, e c'è sempre stato, e sa reagire ai danni che infligge a se stesso. Un paese profondo, ma non nel senso di bigotto. Profondo proprio in quanto sotterraneo, nascosto agli sguardi dei turisti, e tuttavia in bella vista, lontano dalle attenzioni dei media internazionali, dalla litigiosità della politica e dalla polemica perpetua dei social media, costruito sulle relazioni dirette tra le persone e sui loro valori comuni. Su tutti, il culto della libertà, dell'identità, dell'efficienza, del denaro. In ogni momento, e in ogni luogo che gli appartenga, gli Stati Uniti sono coinvolti da una miriade di fenomeni, alcuni piccolissimi e altri giganteschi, che cambiano il paese in modi anche piuttosto radicali. Invenzioni, progetti, culture e sottoculture, idee, investimenti, volontariato, raccolte fondi, attivismi, studi, lotte. Di solito ce ne accorgiamo a cose fatte, quando inevitabilmente rotolano dalle nostre parti. Ispirate da un atteggiamento culturale che non conosce la modestia e non ha paura di bruciare le navi una volta arrivate in porto. Le persone statunitensi sono gli animali sociali e imprenditoriali per eccellenza, quelli che sanno giocare meglio al gioco del capitalismo, che ci piacciono o no le sue regole. A completare un quadro che diventa più spiazzante man mano che ci avviciniamo osservandoli, tutto viene tenuto insieme da un senso di comunità fortissimo, anche e soprattutto negli angoli più isolati e rurali, malgrado i luoghi comuni. Spesso è la prima cosa a colpire gli italiani che si trasferiscono oltreoceano, soprattutto se evitano le metropoli feroci come New York, San Francisco o Los Angeles. Eppure l'aria è sempre elettrica e tutti hanno la sensazione di ballare sul famoso orlo del precipizio. Il benessere economico senza precedenti di questi anni ha raggiunto anche e soprattutto i gruppi sociali più marginalizzati, ma non ha attenuato le tensioni. La radicalizzazione non si è arrestata e coinvolge ormai specularmente sia la destra sia la sinistra. Le differenze culturali fra conservatori e progressisti si sono allargate, così come quelle tra le città e la provincia. La paralisi della politica su temi dal maggior valore identitario e simbolico ha congegnato dei generatori perpetui di sofferenza, come l'immigrazione e le armi. La presa di coscienza collettiva sulla pervasività del razzismo seguita all'omicidio di George Floyd ha cambiato molte cose, ma ha anche esacerbato nervosismi e intolleranze invece che mitigarle. Le donne poi hanno addirittura perso il diritto a interrompere una gravidanza. E c'è un ex presidente che ha cercato in ogni modo di restare al potere dopo la sconfitta, anche facendo ricorso alla violenza, che deve rispondere di 91 gravi capi d'accusa e che nonostante questo, o proprio per questo, viene venerato da una guerrita minoranza della popolazione che lo tratta più come un messia che come un leader politico. La più grande e influente superpotenza del pianeta, l'unica nazione mai costruita sulla sistematica mescolanza di popoli e culture diverse, sta attraversando un momento affascinante e contraddittorio, molto raccontato e poco compreso, per certi versi, l'unico nella sua vicenda nazionale. Com'è possibile che queste cose accadano insieme nello stesso posto? Cosa hanno in testa gli americani? In che modo guardano a se stessi al mondo? Cosa vogliono dal presente e dal futuro? Frammento dopo frammento, storia dopo storia, dato dopo dato, è il quadro che ho provato a comporre nelle prossime pagine. Questo è un libro frastagliato e non lineare, perché la realtà è frastagliata e non lineare. Non è una riga che va da A verso B. Una vicenda con un inizio e una fine. La stessa rapidità di questi cambiamenti suggerisce, peraltro, che possano accadere in modo altrettanto precipitoso anche i capovolgimenti opposti. E la velocità è forse la vera cifra dei nostri tempi. È il caso, quindi, di armarsi di curiosità, di desiderio, di scoperta, di disponibilità ad accettare sorprese e incongruenze, sospendere il giudizio e poi guardare in ogni direzione, tenendo nel nostro sguardo ogni singola cosa e poi tutto quanto, esplorando una strada e poi tornando indietro, procedendo a zigzag, soffermandosi su un dettaglio per poi correre da un'altra parte. Lo faremo insieme. Fatevi trasportare. Buon viaggio. Capitolo primo. Abbondanza. L'amore per il denaro è la prima o la seconda ragione di ogni cosa che fanno gli americani. Alexis de Tocqueville. La democrazia in America. 1835-1840. Il turno comincia a mezzanotte. Gli operai indossano tute di plastica spessa che li coprono dalla testa ai piedi. Poi imbracciano i tubi ad alta pressione per spruzzare acqua bollente sulle macchine e sui nastri che per tutta la giornata hanno dissossato, tagliuzzato e separato migliaia di polli. La pressione è così forte che spinge le spalle all'indietro. Nel giro di pochi minuti l'area si riempie di vapore. Gli schizzi ricoprono gli operai di frammenti di carne, ossa, sangue, grasso. L'odore è putrido, nauseabondo, insopportabile. Resta nelle narici per molte ore dopo la fine del turno. A volte sembra di sentirlo in bocca. Poi si ripongono gli idranti e comincia il lavoro di precisione. Ogni centimetro dell'impianto va cosparso e strofinato con una schiuma densa e acida che fa lacrimare gli occhi e bruciare i polmoni a ogni respiro. Le ustioni sono frequenti perché qualcosa riesce sempre a superare gli indumenti protettivi e ci mettono mesi a guarire. In ogni caso bisogna finire tutto entro le 5 del mattino. All'alba arriverà un nuovo carico di polli insieme con gli operai del turno di urno. Ha detto alle pulizie in un impianto di macellazione. Non ci sono molte professioni peggiori. Un giorno di febbraio del 2022, intorno alle due e mezza del mattino, Marcos Cux stava strofinando uno dei nastri quando notò un guanto di gomma bloccato in una delle giunture dell'impianto di disossamento. Mentre cercava di rimuoverlo, un operaio attivò la macchina per far scorrere il nastro e pulirne il segmento successivo. La manica della tuta di Cux si incastrò fra i denti d'acciaio che nel giro di pochi secondi ne risucchiarono le dita, poi la mano, poi il polso, poi il braccio, mentre il frastuono delle macchine sovrastava le urla. Un collega si accorse dell'incidente e fermò l'impianto, permettendo a Cux di divincolarsi. Non sentì dolore sul momento, ma perse conoscenza non appena mise gli occhi su quello che era rimasto del suo avambraccio. Dal gomito in giù il suo arto era un unico e irriconoscibile brandello di pelle, muscoli, ossa e tendini. Il supervisore chiamò subito un'ambulanza. Dall'altra parte del telefono l'operatore del 911 chiese informazioni sull'operaio ferito e tra le altre cose domandò quanti anni ha? Il supervisore disse che non lo sapeva. Può darci un'idea generale? Non ci fu nessuna risposta. 20 anni? 30 anni? Il supervisore riattaccò. Quella notte di febbraio del 2022, Marcos Cux aveva 14 anni. Veniva dal Guatemala. La storia di Marcos è stata scoperta e raccontata sul magazine del New York Times dalla giornalista Anna Dreyer, premio Pulitzer per il giornalismo d'inchiesta, ed è emblematica di molti fenomeni che stanno attraversando gli Stati Uniti. Almeno due milioni di persone ogni anno entrano illegalmente nel paese e centinaia di migliaia sono minori non accompagnati. Le famiglie sanno che gli adulti rischiano di essere ricacciati indietro, ma sanno anche che la legge impedisce che accada lo stesso ai minorenni che viaggiano da soli. Quindi si indebitano per migliaia di dollari pur di provare a spedire i figli oltre il confine. Una volta dentro, i ragazzini raggiungono qualcuno disposto a ospitarli, spesso un lontano parente o un amico di famiglia. Essi cercano un lavoro, così da mandare a casa i soldi necessari per sopravvivere e ripagare il debito. Di solito lo trovano in men che non si dica. Dopo la pandemia il tasso di disoccupazione è precipitato ai minimi storici e le aziende sono continuamente e disperatamente alla ricerca di personale. È una delle cause dell'inflazione. Il lavoro offerto a Marcos era pericoloso, illegale e orribile, ma la paga era buona. 100 dollari per ogni turno, quasi il quadruplo del salario minimo federale. Per assumere un ragazzino basta falsificare un documento e le aziende più spregiudicate hanno esternalizzato interi dipartimenti, come quello delle pulizie, pur di voltarsi dall'altra parte e liberarsi di ogni responsabilità. L'industria del pollame, poi, è al centro di questa storia. È la carne più consumata del paese. Oggi se ne vende più del doppio rispetto agli anni 70 e negli ultimi anni i consumi sono cresciuti ancora, soprattutto quelli di carne processata, disossata, senza pelle, pronta a finire sulle Caesar salad dei ristoranti, nei tupperware di chi frequenta le palestre o nei grandi vassoi di ali di pollo servite nei pub. A volte già macinata, destinata a diventare chicken nuggets. Oggi Marcos va a scuola. Nell'autunno del 2023 è stato l'unico studente della sua classe a superare al primo colpo un test nazionale. I medici sono riusciti a salvare il suo avambraccio, ma il suo aspetto è orribile. La mano è inutilizzabile e l'arto pressoché immobile. Lo aspettano anni di interventi chirurgici e fisioterapia. Ammesso di trovare i soldi. L'azienda non vuole assumerlo di nuovo, ma senza il suo stipendio i genitori poveri indebitati rischiano di fare una brutta fine. I ragazzini come Marcos sanno che la sopravvivenza delle loro famiglie dipende da loro e non hanno idea di quando le rivedranno. Il National Chicken Council, che ovviamente esiste, stima che nella sola giornata del Super Bowl si consumino negli Stati Uniti circa un miliardo e mezzo di ali di pollo. Negli Stati Uniti è sempre tutto troppo. Da quelle parti è difficile non avere l'impressione che tutto sia esagerato, eccessivo, fuori misura. Per esempio, troppo caldo o troppo freddo. Nei ristoranti l'acqua viene servita col ghiaccio. Lo stesso ghiaccio che riempie i cassoni che circondano supermercati, hotel e motel e che gli americani comprano a chili, conservano in enormi congelatori e infilano dentro ogni bicchiere, in estate come inverno. Al contrario, il caffè filtrato viene servito a temperature da eruzione vulcanica, come se la sua reale funzione fosse scaldare le mani che reggono il bicchierone. Dopo un po' si impara a comprarlo almeno un quarto d'ora prima di quando si vorrà berlo. Nella terza città più popolosa del paese, Chicago, si vive una parte significativa dell'anno con 20 gradi sotto zero. Nella quarta e nella quinta, Houston e Phoenix, si superano i 40 gradi per mesi. L'area condizionata è notoriamente esagerata e crudele e al sud è comune accenderla anche in inverno e in assenza di temperature sgradevolmente alte. Al nord invece, d'inverno le case vengono riscaldate fino a lessare gli inquilini. Quando fa molto caldo, bisogna sempre portare con sé una felpa. Quando fa molto freddo, essere pronti a togliersi quasi tutto. Non è solo una questione di caldo freddo. In fondo una cosa esagerata è un'americanata, no? Negli Stati Uniti i ricchi sono troppo ricchi e i poveri troppo poveri. Troppo grandi le automobili, le strade, il cielo, come le porzioni di cibo, i debiti delle famiglie, la stazza dei giocatori di football, i flaconi dei detersivi e le tanniche che contengono il latte e i succhi di frutta. Troppo alti grattacieli, troppo capienti e troppo pieni gli stadi che ospitano le partite degli studenti universitari, troppo rumorose le persone nei ristoranti. I laghi sono i grandi laghi, le pianure sono le grandi pianure. Il canyon più profondo è il Grand Canyon. L'eroe dei fumetti si chiama Superman. L'evento sportivo dell'anno è il Super Bowl. Il giorno più importante delle primarie è il Super Tuesday. Tutto. Tanto. Troppo. Sempre. Un giorno del 1994, una donna di 79 anni, Stella Liebeck, visitò il drive-thru di un ristorante McDonald's in Albuquerque, in New Mexico. Liebeck accostò alla finestrella e la donna ordinò un caffè, che ricevette alla finestra successiva. Suo nipote fermò l'auto pochi metri dopo, così che Liebeck potesse aprire il coperchio di plastica sul caffè e aggiungere latte e zucchero, cream and sugar. Liebeck bloccò il bicchiere tra le gambe per liberarsi le mani e, tentando di rimuovere il tappo di plastica, fece inclinare il bicchiere. Il coperchio si sollevò, ma non del tutto, e il caffè le si rovesciò addosso. In ospedale le furono diagnosticate ustioni di terzo grado sul 6% del corpo e altre di minore entità sul 16% del corpo. Restò ricoverata per otto giorni, perdendo il 20% del proprio peso. La convalescenza durò altre tre settimane. Le cicatrici restarono visibili e per due anni Liebeck fu considerata parzialmente disabile dallo Stato. La donna chiese a McDonald's un risarcimento per 20.000 dollari. McDonald's rifiutò. Lei gli fece causa. Il processo accertò che il caffè della signora Liebeck aveva una temperatura di circa 90 gradi, come tutto il caffè servito all'epoca da McDonald's negli Stati Uniti. Un dato piuttosto clamoroso che finì oscurato da una sentenza ancora più clamorosa. Il tribunale condannò McDonald's a pagare all'Ibeck un risarcimento pari alla cifra guadagnata dall'azienda intera in due giorni della vendita di caffè, cioè circa 3 milioni di dollari. Se ne parlò in mezzo mondo. Un successivo ricorso di McDonald's fu accolto e alla fine l'Ibeck ricevette poco meno di mezzo milione. È per via del caso l'Ibeck che oggi i coperchi di plastica del caffè da asporto riportano la scritta ATTENZIONE CONTENUTI CALDI. A quella storia seguì una lunga fase di cause legali più o meno temerarie presentate da singoli cittadini contro grandi aziende, molte delle quali finirono in un buco nell'acqua dopo aver fatto un giro su tutti i giornali. Nei mesi del caso l'Ibeck, l'opinione pubblica statunitense si schierò prevalentemente dalla parte di McDonald's. L'altra più nota catena statunitense di fast food, Burger King, è finita sui giornali per una class action nell'agosto del 2023, quando un magistrato ha giudicato ammissibile il ricorso di un gruppo di consumatori statunitensi, secondo cui i panini mostrati dagli spot televisivi sono almeno un terzo più grandi di quelli realmente in vendita. Pochi mesi prima un uomo aveva comprato delle ali di pollo senza ossa in un ristorante Buffalo Wild Wings di Moon Prospect in Illinois. Poi aveva deciso di fare causa all'azienda, aprendo anche lui una class action per pubblicità ingannevole. Nel testo della sua denuncia si legge che l'uomo pensava erroneamente che le ali di pollo senza ossa fossero effettivamente delle ali di pollo da cui erano state rimosse le ossa. Non lo sono. Gli americani misurano tutto, sempre, ossessivamente. Se parlano del taglio di pollo che preferiscono, quindi, ricorrono al concetto di work to meat ratio, il rapporto tra la fatica necessaria per mangiare un certo alimento e la quantità di cibo che si ottiene con quella fatica. Alle ali di pollo viene attribuito un work to meat ratio sfavorevole, con quelle ossa da spolpare, le dita unte, le salse sotto le unghie e la carne destinata a infilarsi fra i denti. Molto lavoro per mangiare poca carne. E quindi, dal momento che gli americani amano poche cose più dell'efficienza e della pigrizia, da qualche tempo nei menù dei loro ristoranti sono arrivati anche le ali di pollo senza ossa, boneless chicken wings. Sono ali di pollo a cui sono state rimosse le ossa? O sono blocchi di carne di pollo macinata, come una crocchetta o un chicken nuggets a forma di ala di pollo? Nessuna delle due. Le ali di pollo senza ossa sono petti di pollo tagliati a forma di ali di pollo. D'altra parte, quando sempre più persone vogliono mangiare le ali di pollo e sempre meno il petto, complici l'aumento delle cene fuori e il crollo delle pause pranzo legate alla diffusione del lavoro da casa, e quindi il prezzo del petto di pollo scende mentre quello delle ali cresce, quando esiste un potenziale mercato per un prodotto con un migliore work to meet ratio e c'è pubblico che ama le ali di pollo fritte ma detesta sporcarsi le dite, la faccia e i vestiti, cos'altro vuoi fare se non le ali di pollo col petto di pollo? Ci vuole un certo talento, già. Ma si tratta, come si dice in questi casi, di un tema divisivo. Un giorno del 2020 un uomo prese la parola nell'aula del consiglio comunale di Lincoln in Nebraska e si lanciò in un'invettiva semiseria che fece il giro dei social media. Niente delle ali di pollo senza ossa viene effettivamente dalle ali di pollo, disse con gran solennità. Saremmo indignati da un macellaio che venda un taglio di carne spacciandolo per un altro, no? E ora vogliamo andarcene in giro facendo finta che un petto di pollo sia un'ala di pollo? Le ali di pollo senza ossa sono bocconcini di petto di pollo e il petto di pollo è già senza ossa. Io al ristorante non ordino dei tacos senza ossa. Non specifico che vorrei dei panini senza ossa, sono già senza ossa. I nostri bambini cresceranno con la paura di trovare ossa attaccate alla carne, ma la carne cresce sulle ossa. Dobbiamo insegnargli che un'ala di pollo viene da un pollo. Un punto di vista divertente e forse con degli argomenti, ma fai anche meno, verrebbe da dirgli. Lui invece concluse così. Da troppo tempo viviamo in una menzogna, lo sentiamo nelle ossa. Tutto. Tanto. Troppo. Sempre. Negli Stati Uniti il cliente ha sempre ragione. Sul serio però. I suoi interessi e le sue esigenze determinano con assoluta priorità le mansioni dei lavoratori che devono servirlo, molto più di quanto accada altrove. Nonché il modo in cui le aziende sviluppano e organizzano le loro attività. Alcune conseguenze di questo approccio sono facilmente visibili ovunque. Dall'onnipresenza dei drive-thru all'aver inventato i resi gratuiti degli acquisti online. Dal free refill nei fast food, cioè la politica per cui paghi una bevanda, e poi riempi il bicchiere ogni volta che vuoi. Hai sedili reclinabili nel cinema. Fino alle decine di modalità con cui si vota. Per posta. Per anticipo. Negli uffici. Nelle chiese. Nelle palestre. E al funzionamento degli sport professionistici. Con arbitri che spiegano ogni decisione in diretta. E stadi dentro i quali è possibile fare cose altrove impensabili. Come chiudere col tappo una bottiglia d'acqua. Conservare un accendino in tasca. O bere la birra in un bicchiere di vetro. Perché l'interesse del pubblico viene prima di tutto. Salvo casi davvero eccezionali. Negli Stati Uniti la soluzione a un qualsiasi problema non sarà mai sottoporre il cliente a procedure faticose o vessatorie. Di quei sacrifici si occuperà chi lo fa per mestiere. Che anzi cercherà di trovare una soluzione in fretta. Altrimenti lo farà certamente la concorrenza. Tutto è pensato per evitare qualunque attrito dentro ogni esperienza. Soprattutto quelle di acquisto e consumo. Il risultato è che le persone fanno di più, spendono di più e più facilmente. Quindi le aziende producono di più. Quindi hanno bisogno di più lavoratori e di pagarli meglio. E questi a quel punto spendono di più e più facilmente. E si ricomincia. Com'è una cosa fatta bene negli Stati Uniti? È smooth. Va liscia, scorre. Un buon punto di osservazione per notare questo approccio è il ristorante. Al ristorante negli Stati Uniti la prima cosa che ti viene chiesta è quella che in Italia a volte teniamo ancora per ultima. Da bere? Accade ovunque. Dallo stellato al diner più scalcagnato. L'idea è che il locale debba mettere subito a loro agio i propri ospiti. E che questi avranno probabilmente voglia di bere qualcosa. Almeno un po' d'acqua. Invece che aspettare che un cameriere arrivi e distribuisca i menù. Poi lasci al tavolo intero il tempo necessario per decidere cosa mangiare. Poi torni a prendere l'ordinazione. Poi non abbiamo ancora deciso. Può darci ancora 5 minuti. Quindi ritorni di nuovo. Raccolga tutte le ordinazioni. Chieda cosa si vorrà bere e infine dopo qualche altro minuto porti una benedetta bottiglia d'acqua. Ma prima ancora di chiedere al tavolo cosa vuol bere c'è un'altra cosa che fa il cameriere non appena i clienti si sono seduti. Si presenta col proprio nome e spiega che sarà lui o lei a occuparsi del tavolo per l'intera durata del pasto. Vuol dire che per ogni esigenza non bisognerà cercare di incrociare lo sguardo del primo cameriere sottotiro. Operazione notoriamente complessa. Bensì quello del proprio cameriere che sarà sempre in zona e spesso non sarà necessario far nulla. Basterà aspettare perché quel cameriere passerà ogni 10-15 minuti per chiedere se va tutto bene e se può assistervi in qualche modo. Va da sé che puoi ordinare quello che vuoi senza incorrere in alcun rifiuto o negli sguardi antipatici del titolare. Vuoi fare colazione con le uova alle 4 del pomeriggio? Puoi. Vuoi ordinare un cappuccino con la bistecca? Puoi. Vuoi ordinare solo un antipasto e magari persino dividerlo col tuo commensale? Un piatto in due? Puoi. Vi sedete in 5 ma mangeranno soltanto in 3? Via libera. Il compito del ristorante è dire sì alle esigenze del cliente invece che imporgli regole che dipendono dalle esigenze del ristorante. Non serviamo la colazione dopo le 11. Dovete consumare almeno una portata eccetera eccetera. Quando il cameriere tornerà con i piatti anche davanti a tavole da 20 o 30 persone. Non lo vedrete mai fare l'appello e chiedere. Di chi era la margherita? Perché se lo ricorda. È il suo mestiere. Lo sa fare. Inoltre non spetta ai clienti dirigere il traffico. Una volta finito di mangiare e accertato che non volete ordinare altro. Any room for dessert? Il cameriere arriverà col conto in men che non si dica senza che dobbiate chiederlo. Talvolta il cliente italiano lo considera un gesto scortese. Ci hanno buttati fuori. Ma la ragione di questa fretta non è liberare il tavolo salvo che fosse stato espressamente richiesto all'inizio del pasto. La ragione è dare al cliente la libertà di andare via quando vuole anche subito se quello è il suo desiderio senza costringerlo ad aspettare di intercettare il cameriere, chiedergli il conto, poi aspettare che torni con lo scontrino, dargli la carta di credito, poi ancora aspettare che torni con il post eccetera eccetera. Vuoi pagare e poi restare seduto ancora un po'? Gli americani lo troveranno forse un po' strano. Non hai da fare? Ma puoi. Quanto al metodo a questo punto dovreste immaginarlo. È possibile pagare in qualsiasi modo. Dividere un conto su cinque carte di credito? Certo che sì. Il tre persone pagano per sé in contanti e il resto si divide alla romana su più carte? Certo che sì. Ma provate voi stessi la prossima volta inventando metodi ancora più creativi e articolati di questi. Diranno sì senza fare un plissé. Anche in pausa pranzo, anche all'ora di punta, sarebbe assurdo pretendere che sia il cliente appiegarsi alle esigenze del ristorante e non viceversa. È il loro mestiere. Un'altra cosa notevole è la gentilezza estrema di chiunque abbia relazioni con il pubblico. Le eccezioni esistono ovviamente, ma non sono la regola. La regola sono invece commessi e camerieri che sorridono, che tentano di notare se qualcosa non va prima ancora che il cliente alzi la per segnalarlo. Che non si limitano a salutare ma chiedono come stai? E sono sempre pronti a chiacchierare. Forse a questo punto comprenderete lo sconcerto del turista americano quando oltre oceano il cameriere gira per i tavoli sbuffando o quando scopre che non si fanno conti separati o quando il ristoratore sbotta con le troppe persone che chiedono un tavolo. È una gentilezza finta, quella americana? Certo che è finta. Ma cosa volete? Che una commessa che vi ha appena visti entrare in negozio si sia già affezionata a voi? Non siete mica amici. Essere gentile con i clienti è il suo mestiere. Negli aeroporti statunitensi i monitor mostrano le informazioni elencando le destinazioni in ordine alfabetico cioè la visualizzazione più immediata per chi deve viaggiare e cercare il proprio volo e non in ordine di orario cioè la visualizzazione più immediata per chi lavora in aeroporto e che deve seguire il flusso dei voli e delle operazioni. Le esigenze del cliente vengono prima. Alla fine del 2023 la compagnia aerea United Airlines ha cambiato il metodo di imbarco dei passeggeri. Prima entra chi ha il posto accanto al finestrino, poi chi ha il posto di mezzo, infine il posto corridoio. Se nei prossimi anni i risultati confermeranno quanto emerso nei test, cioè che si risparmia qualche minuto, sempre più compagnie aeree faranno lo stesso. Già oggi l'imbarco avviene sempre dividendo i passeggeri per gruppi, sulla base di dove sono seduti, anche se questo costringe il personale di terra a fare una cosa in più. Le esigenze del cliente vengono prima. Le tre più grandi compagnie aeree del mondo sono statunitensi. Ma dicevamo della gentilezza dei camerieri. Una delle sue ragioni è il sistema delle mance, certo. La consuetudine che prima o poi mette in crisi chiunque, americani compresi. E che eppure chiunque sia stato una volta negli Stati Uniti, non vede l'ora di spiegare ai suoi sfortunati interlocutori. Nei ristoranti e nei locali statunitensi lasciare la mancia al personale è una norma sociale talmente diffusa da essere diventata nel tempo un obbligo non scritto. Ma proprio perché non esistono regole ufficialmente stabilite, le fattispecie e le variabili sono infinite e disorientanti, anche per tutte le intricate implicazioni culturali dei nostri rapporti con il denaro, con i servizi e con il potere. In un ristorante o in un diner è il caso di lasciare in mancia almeno il 20% del conto. Se state mangiando davanti a un food truck, anche meno. Se siete in una grande catena di fast food e vi portate da soli il vassoio al tavolo, anche niente. Se state riscuotendo un buono regalo, calcolate la mancia sul totale del conto e non solo su quanto dovreste eventualmente aggiungere. Se vi portano il cibo a casa, va bene il 15%. Quando bevete qualcosa al bancone, lasciate un dollaro o due per ogni drink. Quando ordinate il caffè al bar, arrotondate. Se avete ordinato per più persone, lasciate un paio di dollari nel barattolo o attraverso il POS. Se volete diventare un cliente abituale di quel bar, fatelo sempre. Sì, certo, non dovrebbe funzionare così, va bene. Ma scordatevi di cambiare la granitica cultura delle mance della più grande economia della storia dell'umanità con la vostra obiezione di coscienza. Consideratela una spesa come tutte le altre e farete risparmiare tempo a voi e al prossimo. È possibile lasciare meno di mancia di quanto sopra? Sì, al massimo penseranno che siete maleducati o tirchi, oppure vi chiederanno cosa sia andato storto e perché non lo avete fatto presente in una delle 300 volte in cui vi è stato chiesto se andava tutto bene. È possibile non lasciare nulla? Sì, ma allora mettete in conto di essere inseguiti fuori dal locale. Serve la calcolatrice? No, dividi il conto per 10, raddoppia e hai ottenuto il 20%. Altre categorie professionali che si aspettano di ricevere una mancia. Tassisti, parrucchieri e barbieri, corrieri, personal trainer, tatuatori, parcheggiatori, guide turistiche, estetisti, il personale degli alberghi ma non quello della reception. A chi non bisogna pagare la mancia? Medici, insegnanti, avvocati, commessi, idraulici, elettricisti e tecnici vari. Ovviamente ognuna di queste regole prevede le sue eccezioni.